Ben tornati su Sicilia 24 per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Una donna è stata denunciata dagli agenti di polizia in servizio all'aeroporto di Catania. Era infatti in possesso di tre coltelli, uno di grosse dimensioni. Vediamo il servizio. Durante i controlli effettuati dal personale in servizio all'aeroporto di Catania, presso la postazione di controllo bagagli da stiva, è stato individuato all'interno di uno dei bagagli un coltello di grosse dimensioni. Immediatamente la polizia di frontiera si è portata sul posto unitamente alla proprietaria, la quale, dopo aver aperto il bagaglio, ha posto in visione il grosso coltello della lama affilata di circa 30 centimetri, custodito all'interno di un fodero con annessi altri due coltelli con lame di circa 8 centimetri. La donna, nell'immediatezza, non è riuscita a giustificare il possesso e il trasporto delle armi, riferendo di essere partita in macchina dalla propria residenza in una località del nord Italia e dopo aver trascorso una vacanza a Catania stava ripartendo per raggiungere la propria residenza. Dopo aver sequestrato il coltello, completo di custodia, e gli altri due coltelli, la passeggera è stata deferita in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria per il reato di porto di armi o d'oggetti atti a offendere. Ci spostiamo a Villa Franca Tirrena, nel Messinese, dove il questore ha disposto la chiusura temporanea di un locale dove nei giorni scorsi è stato accoltellato un giovane. Tutti i dettagli nel servizio. Una rapida ma intensa e capillare attività istruttoria, eseguita dalla divisione amministrativa, sociale e dell'immigrazione della questura di Messina, ha portato al provvedimento di sospensione della licenza emesso dal questore a carico del locale di Villa Franca Tirrena, dove lo scorso 29 gennaio hanno avuto luogo gravi episodi pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di una serata danzante. Gli accertamenti del locale comando dei carabinieri, subito intervenuti nella notte del 29 gennaio, hanno rivelato la dinamica di un violento litigio tra due giovani avventori degenerato in un'aggressione e conclusosi con l'accusa di tentato omicidio ai danni di uno dei due, con la vittima che ha riportato una profonda ferita alla gola causata da un'arma da taglio. L'attività d'indagine ha inoltre appurato che all'interno del locale era stata consumata marijuana e che molti avventori presentavano un evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol. Altri avventori addirittura erano riversi a terra in stato di incoscienza. In aggiunta è stato constatato lo stato impietoso dei servizi igienici. È stato accertato inoltre che l'amministratore della società destinataria dell'autorizzazione di pubblica sicurezza emessa nel 2020 era stato già nel 2021 destinatario di un decreto di cessazione dell'attività di spettacolo e di trattenimenti danzanti per aver tenuto una manifestazione in difetto della prescritta licenza. A fronte delle condotte chiaramente lesive della sicurezza e della pubblica incolumità in primis degli stessi avventori l'autorizzazione di pubblica sicurezza dell'esercizio commerciale è stata temporaneamente sospesa. A Valderice invece, nella Trapanese, i carabinieri hanno denunciato un napoletano nel quale ha truffato un uomo del posto fingendosi un impiegato delle poste italiane era riuscito a farsi versare 2.000 euro. I carabinieri di Valderice hanno denunciato un giovane napoletano classe 2000 per il reato di truffa. Da accertamenti scaturiti dalla denuncia presentata da un valdericino ultra sessantenne che ha dichiarato di essere stato truffato e di avere accreditato dei soldi su una poste pay, i militari dell'arma sono risaliti al presunto responsabile. L'uomo sarebbe stato contattato telefonicamente dal 22enne il quale, fingendosi un operatore di poste italiane, tramite artifici e raggiri avrebbe indotto la vittima a effettuare tre distinti bonifici per un importo di quasi 2.000 euro su una carta poste pay risultata intestata al giovane napoletano. Il ragazzo avrebbe dapprima inviato un sms parlando a nome di poste italiane invitando la vittima a richiamare in quanto il conto corrente risultava ad elevato rischio frode. Una volta ricontattato dal 66enne lo avrebbe indotto a versare la somma in diverse tranche al fine di allineare il conto in modo da scongiurare ogni rischio. Tre persone denunciate per vari reati e il bilancio di un controllo del territorio effettuato dai carabinieri a Mazzara del Vallo. I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo hanno denunciato tre persone nell'ambito di un servizio coordinato volto alla prevenzione e repressione di reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un palermitano di 36 anni è stato deferito per l'inosservanza delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio nel comune di Salemi in quanto sorpreso a passeggiare nella pubblica via del predetto comune. Un palermitano di 28 anni invece, sottoposto alla sorveglianza speciale, non è stato trovato presso il luogo previsto dalla citata misura di prevenzione e per questo è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Un tunisino di 27 anni è stato denunciato per porto di armi o d'oggetti atti a offendere e spaccio di droga in quanto, a seguito di una perquisizione, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato di 16 centimetri, 30 grammi di hashish divisa in dosi e 13 grammi di marijuana divisa in dosi, tutto posto sotto sequestro dai militari operanti. A Biancavilla, nel Catanese, la polizia ha tratto in arresto un giovane di 22 anni il quale è stato poi condotto in carcere. Nella propria abitazione, infatti, deteneva droga, un fucile e delle cartucce. Continua l'attività della polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di droga. Nel comune di Biancavilla, i poliziotti del commissariato di Adrano hanno arrestato un giovane di 22 anni con vari precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di arma da fuoco clandestina e delle relative munizioni. Gli operatori di polizia da tempo sospettavano che il 22enne potesse detenere a casa della sostanza stupefacente, quindi hanno predisposto un mirato servizio di appostamento finalizzato ad accertare la fondatezza di tale sospetto. Avuta contezza che il giovane si trovasse all'interno dell'abitazione, i poliziotti hanno deciso di accedervi e di procedere alla perquisizione di tutti i locali di sua pertinenza. All'interno del garage sono state rinvenute diverse buste contenenti più di 600 involucri di marijuana. Le dosi erano pronte per essere immesse sulla piazza a dispaccio di Biancavilla. Procedendo nella perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto, occultato all'interno di una scatola, un fucile a doppia canna calibro 16 con matricola a brasa. Dentro la stessa scatola erano contenute anche 16 cartucce, di cui due già inserite e pronte a essere esplose. La perquisizione ha portato inoltre al rinvenimento di tre bilancini di precisione di quelli utilizzati per pesare la quantità di stupefacente necessaria al confezionamento delle singole dosi e materiale per il confezionamento della marijuana. Il 22enne Biancavillese è stato condotto in commissariato in stato di arresto per le necessarie operazioni di identificazione. Da qui, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato trasferito presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania. E sempre per spaccio di stupefacenti, la polizia invece tratto in arresto un 23enne a Catania. Durante un controllo presso l'abitazione di un noto pregiudicato di 23 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, gli agenti del commissariato San Cristoforo hanno avvertito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente che li ha spinti a effettuare un'accurata perquisizione dell'immobile. I sospetti dei poliziotti erano ben fondati, in quanto sono stati rinvenuti, all'interno di uno sportello della cucina, diversi involucri termosaldati contenenti 4 grammi circa di crack e un grammo circa di cocaina e nell'armadio della stanza da letto una busta contenente circa 50 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, oltre a un bilancino di precisione, materiali per il confezionamento delle dosi e una somma in contanti di 1000 euro, ritenuta a provento dell'attività di spaccio, della quale il giovane non ha saputo giustificare la provenienza. Il 23enne è stato pertanto arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da Catania a Militello, in Val di Catania, dove un 33enne pusher è finito in manette. I carabinieri della stazione di Militello in Val di Catania, unitamente ai colleghi dello squadrone li portato cacciatori di Sicilia, hanno arrestato in flagranza un 33enne del posto, pregiudicato, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto della vendita di droga, i militari in Viale Margherita della cittadina calatina hanno notato il transito di una fiammante autovettura condotta dal 33enne che viaggiava unitamente a un 27enne. I militari hanno affiancato in movimento l'autovettura intimando l'alta al conducente e, in considerazione del fatto che quest'ultimo anno verava specifici precedenti in materia di droga, hanno proceduto a un controllo approfondito, effettuando una perquisizione personale veicolare, poi estesa anche alla sua abitazione, in considerazione dell'atteggiamento evidentemente nervoso che aveva manifestato nel corso delle operazioni. L'intuito dei carabinieri ha colto nel segno perché all'interno di un astuccio nascosto in una scrivania hanno trovato una busta con vari involucri contenenti complessivamente 4 grammi di cocaina, 23 grammi di ascisce, un bilancino di precisione e il materiale necessario al confezionamento della droga. Il 33enne è stato pertanto posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. A Catania i carabinieri hanno invece effettuato dei controlli nei quartieri Nesima e Librino per contrastare l'illegalità diffusa. E allora vediamo un bilancio di questi controlli. I carabinieri della compagnia di Catania Fontana Rossa, supportati dai colleghi del XII Reggimento Sicilia e con la collaborazione di personale dell'ASP Sezione Igiene Urbana e Sezione Spresal di Catania, sono stati impegnati in un servizio di contrasto all'illegalità diffusa nei quartieri di Nesima e Librino. Al riguardo, i militari dell'arma, nell'ambito dei servizi di prevenzione volti al controllo dei soggetti destinatari di misure restrittive presso le proprie abitazioni, hanno effettuato diverse verifiche del quartiere di Librino, accertando come un uomo, da qualche giorno ai domiciliari in Viale Castagnola, per maltrattamenti in famiglia contro l'ex convivente, si fosse allontanato da casa senza alcuna autorizzazione. Immediate, quindi, sono scattate le ricerche del soggetto, che dopo qualche minuto faceva spontaneamente rientro presso l'appartamento, dichiarando in maniera generica che si era allontanato da casa per cercare di guadagnare qualcosa e non gravare economicamente sulla sua famiglia. I carabinieri hanno pertanto nuovamente sottoposto il 35enne agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto. In tale contesto operativo è stata sottoposta a verifica nel quartiere Nesima, tra le altre, una struttura per anziani, il cui amministratore unico, un 42enne di Paternò, già noto alle forze dell'ordine, è stato deferito all'autorità giudiziaria per carente manutenzione impianti al servizio dell'immobile. Al termine dell'ispezione, infatti, i carabinieri hanno riscontrato presso la struttura carenze nella manutenzione dell'impianto del gas che ha comportato, conseguentemente, la chiusura provvisoria del locale adibito a cucina. I controlli alla circolazione stradale effettuati dai militari dell'arma nel quartiere Nesima hanno portato all'identificazione di oltre 20 persone al controllo di circa 10 veicoli. Al termine dell'attività sono state rilevate tre violazioni al codice della strada con conseguenti sanzioni amministrative per un importo di quasi 2.000 euro, oltre al sequestro di due autoveicoli e al ritiro di una carta di circolazione. Durante i controlli su strada, le diverse perquisizioni operate per la ricerca di droga e armi hanno consentito ai carabinieri di segnalare alla locale prefettura un giovane quale assuntore in quanto è stato trovato in possesso di due grammi di marijuana. Dopo una denuncia presentata da un imprenditore, un ex funzionario a Lars è adesso indagato. Vediamo perché. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo a conclusione di un'attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva del divieto di dimora di un anno nel territorio della provincia di Palermo non chiede la misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per lo stesso periodo emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo a carico dell'ex responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Assemblea regionale siciliana Giuseppe Mirici Cappa indagato per il reato di tentata induzione in debita a dare o promettere utilità. L'attività investigativa si è sviluppata a seguito della denuncia presentata da un imprenditore che dopo essersi aggiudicato nel 2019 una gara d'appalto di servizi e ristorazione bar presso la sede dell'Assemblea regionale siciliana avrebbe ricevuto delle forti e insistenti pressioni da parte del Mirici Cappa affinché si rivolgesse esclusivamente a fornitori indicati da quest'ultimo a fronte del rifiuto da parte dell'imprenditore il pubblico ufficiale avrebbe posto in essere nei suoi confronti reiterati comportamenti ostili e vessatori Le indagini hanno fatto emergere inoltre la marcata propensione di Mirici Cappa a richiedere favori per sé e anche per terzi ad alcuni imprenditori affidatari di commesse da parte dell'ente e ciò in forza del ruolo rivestito e dei conseguenti stretti e quotidiani rapporti che il funzionario intratteneva con gli stessi E' tutto possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia